Mozzarella in carrozza a modo mio. Ingredienti. Mozzarella. Prosciutto. Pagniè per fare praticamente la mozzarella in carrozza. In questo caso qua due o tre uova sono sufficienti, ma se ne avete quattro, mettetene quattro. Sale, pepe e parmigiano reggiano. Questi sono tutti gli ingredienti. Per l'impanatura, pan grattato. Per la friggitura, olio. Allora, procedimento. Incominciate a sbattere le uova con tutti gli ingredienti che avete messo. Formaggio, sale e pepe. Volete ancora di più? Aggiungete basilico e prezzemolo, altrimenti lasciate stare. Tagliate la mozzarella. Tagliate una quantità di prosciutto cotto, ma in questo caso potete mettere di tutto. Mozzarella, mortadella, mortadella, pancetta, quello che volete. Allora, la prima cosa che si deve fare è immergere il pane in tutti e due i lati nell'uovo. Poi, assicuratevi che si è bagnato tutto. Ok? Cominciate a pressare un po' e mettetelo sopra al pan grattato. Aggiungete mozzarella. Non uscite mai da bordi, perché la mozzarella si scioglierà. Nel frattempo che voi fate questa operazione, potete anche incominciare a riscaldare l'olio. Quindi, calcolate sempre che una mozzarella serve per fare due. Ok? Quindi, aggiungiamo il prosciutto cotto. Ok? Prendiamo un'altra volta il pane. E incominciate a mettere sopra. Non pressate ancora, perché prendete il pan grattato. Adesso potete pressare. Per avere una chiusura perfetta, vi consiglio prima di girare. Poi lo girate un'altra volta. Adesso prendetelo in mano e solo i lati mettete nell'uovo. La stessa operazione la ripetete nel pan grattato. Così avrete tutto uniformemente. Voilà! Arrivati a questo punto siete pronti per friggere. Aiutatevi sempre con una paletta quando inserite il pan, la mozzarella in carrozza nell'olio. Quindi vi aiutate sempre con una paletta di questo tipo. Voilà! Adesso aiutatevi con il cucchiaio. Incominciate a mettere l'olio nella parte di sopra. Arrivata a questo punto giratela. Voilà! Ci saranno sempre questi spazi vuoti, come vedete, che l'olio non riesce ad arrivare nella parte di sotto. Quindi fate sempre con il cucchiaio in questo modo, in modo che tutte le parti vengono cotte. Fate un'altra girata e dopo di che mettete su carta assorbente. Voilà! Pronta per essere mangiata, tiepida, fredda, calda, come volete voi. Ottima per sostituire un pasto molto calorica. Quindi buon appetito a tutti. Da Paolo Orlando, Telecarage Mare Viaggi per il canale Ricette da Sballo.